Immobile in locazione in Torre Cantore, siamo al quinto piano, abbiamo questo bilocale con questo ingresso e disimpegno. Se vedete questo disordine è perché sono in fase di trasloco gli inquilini. Quindi la casa è dotata di diversi spazi ripostiglio, quindi con armadia muro. Questo è uno, qui abbiamo la porta d'ingresso, qui abbiamo dietro altri due ripostigli qui dietro. Abbiamo quindi spazi sfruttati al massimo, quindi qui siamo appunto nelle discipline d'ingresso. Questo è il bagno, bagno dignitoso, molto grande, un po' vissuto però comunque è una casa in ordine. Con vasca e attrezzata come box doccia, con finestra che quindi è molto comodo quando si deve rieggiare il locale. Qui abbiamo la cucina, la cucina abbiamo, questo ho incontrato 4 più 4, quindi la cucina, questo angolo cottura così completo rimane. E anche il tavolo, il resto va via tutto perché sono mobili dell'inquilino. Di qui abbiamo la vista aperta, ora poi lo vedremo anche dall'altra parte. Quindi abbiamo l'ingresso, la cucina, poi abbiamo questa enorme camera che volendo uno si può attrezzare con divano letto e fa soggiorno, una notte in un ambiente unico, oppure in una parte fa vano letto e nell'altra fa soggiorno. Quindi facciamo bene una panoramica, è un vano molto 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 grande. E qui facciamo vedere anche l'esposizione, ripeto, qui ci sono tanti cartoni perché l'esposizione, diamo verso praticamente il porto, quindi verso il Levante. Qui hanno costruito, cioè VTC e torre MSC. Quindi vista panoramica, si ritorna all'interno dell'immobile. Qui abbiamo un bel parquet, quindi la casa è tutta parquet, tranne la cucina e il bagno. L'immobile è finito.